La prima alla quale ti chiedo il voto è Giorgia Meloni che ha detto la mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui e l'ha detto con un post sui social. Che voto dai a Giorgia? Ne abbiamo parlato molto prima, a lungo. Che voto dai a Giorgia Meloni su questa frase, su questa scelta? Le do sei, Luca. È un voto difficile, non perché abbia imbarazzo a dare voti, lo faccio da sempre con te e con voi, però è un voto difficile perché qui si va a tecchire a parlare del privato. Io Giorgia Meloni la attacco praticamente tutti i giorni per motivazioni politiche. Darle un voto in questo caso mi mette un po' in difficoltà. È chiaro che il voto è sulla scelta di rendere pubblico con un post, una cosa che è molto privata e al tempo stesso anche eventuali ripercussioni politiche. Io esprimo tutta la mia vicinanza umana nei confronti di Giorgia Meloni perché mi rendo conto che a lei deve essere arrivata addosso un treno. È una storia che finisce dopo dieci anni, ha avuto una bambina che è la cosa più bella della sua vita insieme a Gian Bruno, Ginevra. Non ha nessuna colpa, è stata secondo me anche coraggiosa a esternare tutto questo, a mettere in piazza tutto questo. Non le do più di sei, fermo restando che il voto qui conta relativamente, perché ci vedo un po' un contrapasso in questo giochino qua, Luca, in questa vicenda. Cioè ci vedo, come avete già detto voi, la destra più bigotta, più oscurantista, più tradizionalista, che straparla di famiglia tradizionale, sebbene non abbia mai o quasi mai famiglie tradizionali, che poi si vede arrivare addosso un boomerang. Quindi mi verrebbe da dire chi di donzellismo ferisce, di Antonio Riccismo ferisce. È un po' successa questa cosa qua. Però solidarietà a Giorgia Meloni perché so che ci sta male. Grazie a tutti.